Meteo sul piatto il brutto tempo sta per tornare. Consigli su cosa mangiare e bere con questo clima Articolo del 1062023 or 1800 di Timil Meteo Meteorologi e Tecnici cosa mangiare e bere con questo clima da fare Dopo un timido tentativo da parte dell'anticiclone africano di portare un po' di calore durante il fine settimana, il maltempo tornerà in media Il ciclone Oscar, dopo aver colpito il settore occidentale di Europa, è pronto a imbrattare verso il nostro paese da martedì in poi Portando una specie significativa impeggioramento al centro-sud cattive notizie per i vacanzieri Dopo la chiusura delle scuole, ma sfortunatamente la stalla e il tempo di sole quest'anno non vuole arrivare Il maltempo, da martedì sera poi, sarà associato all'Oscar ciclone che, con connotazioni tropicali Porterà così tanta umidità in Italia insieme agli ombrelli aperti avremo anche alcuni capi un po' più pesanti, specialmente montagna Se l'estate non è ancora lì, ci consoliamo con i frutti stagionali, a partire da ciliegie, di cui ti abbiamo detto qui Un ingrediente che si presta anche ai preparativi sale un'insalata arricchita sarà anche un campione di originalità Un risotto ciliegie e formaggio capra stupirà gli ospiti o persino una salsa piccante da combinare carne o pesce cotto In combinazione, un vino rosso abbastanza giovane, per bere fresco